home studio eccomi qua volevo farvi vedere una cosa che mi è arrivata qualche giorno fa sapete cos'è questo questo è un porta biglietti da visita e cosa ci sarà mai all'interno i miei nuovi biglietti da visita guardate che belli verde fluo alessandro lanaro spot per il tuo brand guardate dietro ma non è bellissimo qui dietro appunto c'è il quarkod così ti colleghi direttamente alla pagina instagram e li ho fatti con una vista print in due settimane più o meno mi sono arrivati ne ho fatti stampare 250 e ho speso qualcosa come 30 euro quindi molto molto abbordabile faccio l'ultima storia poi mi metto a lavorare perché se no sto tutto il tempo a telefono questa storia del video maker social media manager sta andando bene e vi dirò due settimane fa ho lasciato definitivamente il lavoro come barman perché mi sto autofinanziando solo grazie a questo solo grazie ai miei video quindi ragazzi contattatevi se vi serve un video perché adesso dipende tutto dai miei lavori però bello sono contento e la cosa si sta facendo davvero interessante